Sta ottenendo un grande successo di pubblico e di critica il libro di Lina Intruglio Il peso dei due padri che l'autrice ha presentato domenica scorsa nella sede del movimento cristiano lavoratori a Mascali sede che ospita la sala Mascali e Rose Marine che è diretta proprio dalla Intruglio Stiamo partendo con questa presentazione e questo è solo l'inizio di una lunga serie di cose che avranno aggancio culturale a 360 gradi avremo eventi di ogni tipo che partiranno a ottobre 2016 fino a giugno 2017 con due incontri con scadenza quindicinale e ci saranno qua molte persone invitate a partecipare molti artisti, aspettiamo quest'arte siciliana che si farà viva qua nella sala cultura Mascali e Rose Marine Avevamo detto un mese fa che è stata l'inaugurazione appunto della sala della cultura Mascali e Rose Marine così si chiama e a un mese esatto da quell'appuntamento ce n'è il primo ufficiale appuntamento che è appunto la presentazione del libro della nostra cara amica Lina Intruglio è il primo atto di una serie lunga speriamo di appuntamenti che si terranno in questa sede per tutta la stagione autunno-inverno prossimo e proprio Lina Intruglio è la nostra direttrice di questa sede culturale per cui io sono orgoglioso di essere qui ad avere stimolato Lina a fare questo e diamo tutti un grosso augurio a Lina sia per la presentazione del suo libro sia per la futura attività che andrà a svolgere in questa sede Grazie 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 Grazie